I nazisti stanno razziando opere d'arte in Italia e Parigi. Tratto da una storia vera. Mettiamo insieme una squadra per trovare quello che manca. Il più grande saccheggio della storia. Quanti uomini? Per adesso sei. Sarà sventato da una squadra di eroi. Beh, con te fanno sette. George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, John Goodman e Cate Blanchett. Conto fino a tre e uno. Che fine hanno fatto? Due e tre. Mi è preso il panico. Monuments Men. Dal 13 febbraio al cinema.